andiamo a fare un altro limite andiamo a fare questo limite qua limite per x che tende a più infinito di 1 più 1 su x alla x questo limite è quasi banale fa e, perché? ricordate 1 più 1 su x alla x e più grande di 2 io qui ci metto 1 più 1 sulla parte intera di vabbè, mettiamoci direttamente questo qua x alla... ed è più piccolo... 1 più 1 fratto la parte intera di x alla ceiling di x cioè, se vi ricordate il floor di x è il massimo dell'insieme dei k appartenenti a z si chiama parte intera il ceiling di x è il minimo dei k appartenenti a z ma la rica e k è più grande di x c'è un unico caso in cui questi coincidono quando x è un numero intero allora il floor e il silico coincidono se x per esempio è 3, il floor e il silico fanno 3 se x è 3, il floor fa 3, il silico fa 4 chiaro? comunque... questo numero qua... è più piccolo... di 1 più 1 su c floor di x al floor di x più 1 questo qui appartiene all'insieme di 1 più 1 su n alla n più 1 per n appartenenti x lo prendo più grande di 1 in tutte queste disuguaglianze queste disuguaglianze sono vere se x è più grande di 1 se x è meno di 1 il floor potrebbe fare 0 ora... questa successione qua... 1 più 1 su n alla n più 1 come la posso scrivere? la posso scrivere con 1 più 1 su n alla n per 1 più 1 su n quindi... quando n tende a n è infinito che succede? questa successione... allora questa qua se vi ricordate abbiamo dimostrato che converge e che converge poi il limite l'abbiamo chiamato i questa converge a 1 e per 1 fa i ma se questa converge a 1 siccome questa funzione prende i valori da questa successione i valori sono presi da questa successione possiamo dire che questa funzione per x quando x tende a più infinito tende a e quest'altra sua volta è compresa tra ma è maggiore uguale a 1 più 1 fratto la parte intera di x più 1 elevato a devo scrivere così potevo farlo anche direttamente però ho voluto usare le funzioni di flore e cilindro questo qua e questo qua coincidono normalmente per esempio se x è uguale a 3 e mezzo questo fa 4 e questo fa 4 però se x è uguale a 7 questo fa 7 e questo fa 8 ma siccome in ogni caso qui questo pezzetto può diminuire se la base diminuisce la potenza diminuisce o rimane qua comunque questa qui questo vado a vedere qua dove sta? sta nell'insieme di 1 più 1 su n più 1 alla n tale che n appartiene a appartiene a quest'intere qua se vado a vedere la successione 1 più 1 su n più 1 elevato a n più 1 fratto 1 più 1 su n più 1 ora questa che succede quando n tende a infinito? questa converge a e perché è un estratto di quella la questa converge a 1 e su 1 tende a e quindi che significa? significa che questa successione qui pure lei quando x tende a più 1 più 1 questa funzione è qui quando x tende a più 1 più 1 pure lei tende a e per l'interno di due carabinieri questa che sta in mezzo quando x tende a più 1 più 1 tende a e quindi questo limite qua di allora sostanzialmente uno dice i valori di quella funzione assomigliano a 1 più 1 su n alla e quindi assomigliano non basta per fare il ragionamento ci vuolano le maggiorazioni allora per fare le maggiorazioni cosa faccio? cosa faccio? diminuisco il denominatore qua e aumento l'esponente qua e quindi la... e quindi qua l'ho fatto ulteriormente e quindi la potenza aumenta da quest'altra parte aumenta il denominatore e diminuisco l'esponente quindi la potenza diminuisce però alla fine nonostante abbia fatto queste manipolazioni quello che sta a sinistra e quello che sta a destra tende a e e quindi per l'interno di due carabinieri quello che sta in mezzo tende a e e questo è il terzo limite che ci mettiamo da parte adesso andiamo a fare io faccio il limite per x che tende a meno infinito di 1 più 1 su x alla x anche qui è una... allora qua è una forma indeterminata perché la base tende a 1 la potenza tende a più infinito non l'abbiamo ancora detto ma questa è la forma indeterminata del... di una potenza quando la base tende a 1 la potenza tende a infinito poi vedremo perché allora noi l'abbiamo o indeterminata o non l'indeterminata l'abbiamo risolto con il terreno di due carabinieri che abbiamo dimostrato che tende a e anche qua è indeterminata allo stesso modo perché la base tende sempre a 1 perché x tende a meno infinito 1 su x tende a 0 ma la potenza tende a... tende a... meno infinito allora andiamo a vedere come si fa quell'altro limite allora si fa... anticipiamo ma l'abbiamo già fatto oggi quindi a livello di esercizi possiamo anticiparlo poi lo dimostriamo giovedì un cambiamento di variabili cioè poniamo y uguale meno x allora questo qua cosa diventa? diventa il limite per y che tende a... più infinito di che cosa? di 1 fratto... 1 meno 1 fratto y alla meno y perché x è uguale a meno y quindi questo chi è? è il limite per y che tende a... più infinito di... 1 fratto... 1 meno y... meno 1 su x alla y alla y cioè il limite per y che tende a... più infinito di... 1 fratto... y meno 1 fratto y alla y cioè il limite per y che tende a... più infinito di y fratto y meno 1 alla y che tende a... più infinito... più... 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 t... uguale a y meno 1 se questo tende a... più infinito... ci dovete... più infinito... di 1 più 1 su t... elevato alla t... più 1... ora però... questo elevato alla t... più 1... lo posso anche scrivere così... quindi... questo alla t... e questo... alla 1... ora... 1 più 1 su... stavolta t tende a... più infinito... 1 più 1 su t... alla t... elevato a... e... quest'altro tende a... 1... e per 1 fa... quindi... quindi... o x tende a più infinito... o x tende a meno infinito... questo limite fa sempre... è chiaro? ho scritto due limiti insieme... se x tende a più infinito... il limite fa e... se x tende a meno infinito... il limite fa sempre e... ci siamo? una volta fatto questo... abbiamo... tanti altri limiti... che possiamo calcolare... allora... se io adesso vado a fare... il limite... per t... che tende a 0... di... 1 più t... alla 1 su t... oppure per x... che tende a 0... di 1 più x... alla 1 su x... questo limite... questo limite... quanto va... fa sempre e... perché? allora... partiamo da questo... quello con più infinito... se adesso... se adesso... se adesso pongo... t... uguale 1 su x... che succede... quando vado a fare... la sostituzione... che t... tende a 0... da destra... e però... mi viene... 1 più t... alla 1 su t... e questo limite... ovviamente... fa e... questo perché... quando x tende a più infinito... 1 su x... che t... tende a 0... ma mantenendosi positivo... ok? e però... valeva anche quello... con meno infinito... qui c'avevo anche... che il limite... per x... che tende a... meno infinito... di 1... più 1 su x... alla x... faceva pure e... adesso... quando vado a porre... t uguale 1 su x... scopro... che il limite... per t... che tende a 0... da sinistra... di 1... più t... alla 1 su t... fai pure il limite... allora... che succede? se... se questa funzione... t... lo richiamo x... quindi 1 più x... alla 1 su x... da destra tende a i... da sinistra tende a i... metto le due informazioni insieme... questa funzione... per x... che tende a 0... tende ad i... ok? quindi questo è... questi due limiti... ce li eravamo incorniciati... e questo vuole... è il quarto limite che... incorniciato... adesso... se questa funzione... per x... che tende a 0... tende a e... se faccio il limite... per x... che tende a 0... del logaritmo... del logaritmo... di 1... più x... alla 1 su x... a chi tenderà? a chi tenderà? il logaritmo era una funzione con... allora... se l'argomento del logaritmo... tende ad e... il logaritmo di quella roba... tende a... logaritmo naturale di e... al logaritmo naturale di e... fa... 1... però... questo limite... così com'è... non mi piace... lo riscrivo così... e lo rincornicio... il limite per x... che tende a 0... del... logaritmo di 1... più x... fratto x... fa... 1... ok? e che... logaritmo di 1... più x... a alla 1 su x... logaritmo di a alla b... fa... b... per logaritmo di a... proprietario del logaritmo... questo è... un altro limite... notevole... questo limite è notevole... come lo possiamo riscrivere? come lo possiamo riscrivere? secondo voi? per x che tende a 0... la funzione logaritmo di 1... più x... chi è? dove vedi? è x... più piccoli... questo fratto x tende a 1... come se x su x tende a 1... quindi questa qua... pure lei è x... ce lo piccoli... ci siamo fino a qui? e adesso lo dobbiamo fare un altro... questo stesso limite qua... lo voglio riscrivere in un altro modo... lo voglio riscrivere in un altro modo... è chiaro? è chiaro? allora... quindi... il limite... questo qui... che mi diventa? diventa il limite... stavolta... agisco sulla t... ma la t per far tendere x a 0... deve tendere a 0... di che cosa? qua c'è t... perché... questo è quello che ho chiamato t... e chi ha x? come si fa a ricavare x? allora... per ricavare x... devo fare... prima l'esponenziale di t... e mi fa 1 più x... e poi ci devo togliere 1... quindi... qua ci devo scrivere... e alla t meno 1... il limite... se prima faceva 1... qua ha fatto solo un cambiamento di nomi... si chiamerà cambiamento di variabile... ma... continuerà a tendere... a 1... ok? ma... siccome questo mi piace... fino a un certo punto... io la t la richiamo x... e poi voglio scambiare il numeratore e il denominatore... lo posso fare... certo... perché questa funzione è la reciproca di questa... se quella funzione tende a 1... la sua reciproca tende a 1 fratto 1... e questo è l'altro limite che andiamo a incornicare... questo limite qua... lo possiamo anche riscrivere come... come... e alla x... uguale... 1 più x... più o piccolo di x... allora vedete... che tranne... abbiamo sostanzialmente fatto... cinque limiti fondamentali... tranne questo... tranne questo... che è per x che tende a più o meno infinito... e che si ricorda facilmente... perché assomiglia al limite di 1 più 1 su n alla n... allora il limite per x... che tende a più o infinito di 1 più 1 su x... alla x... vale sia a più o meno infinito... che a meno infinito... gli altri quattro limiti... cioè il limite di coseno di x meno 1... fratto il quadro... il limite di sin x su x... il limite della retta 1 più x su x... il limite della x meno 1 su x... sono tutti per x che tende a 0... e cosa mi dicono? questo limite faceva meno un mezzo... quindi mi dice che il coseno di x è uguale a 1... meno x quadro mezzi... più termini di ordine superiore x quadro... questo limite faceva 1... cioè... mi dice che se la x è uguale a x più piccolo x... questo limite fratto x tendeva a 1... e quindi mi dice che questa funzione è uguale a x più piccolo x... questo limite... meno 1 e alla x meno 1 fratto x... si tendeva a 1... quindi mi dice che alla x è uguale a 1... più x più 1... quindi queste... quattro scritture qua... contengono i quattro limiti fondamentali che abbiamo fatto... quattro dei cinque limiti fondamentali che abbiamo fatto... però sono restritti in modo... migliorato, chiamiamolo così... ok? questi qua sono limiti che ci serviranno come il pane... ok? si chiamano notevoli perché in qualche modo uno se li deve ricordare... però se uno pensa di ricordarli con la memoria... è un povero illuso... che voglio dire... quello fa 1... quello fa meno 1... le cose si confondono... la memoria funziona... ma deve essere strutturata... cioè... non solo... noi abbiamo ricavato questi limiti... li abbiamo riscritti... come sviluppo di funzioni... e già questo... non... diciamo... se perdi... un po' la memoria dell'uno... ti aiuti con la memoria dell'altro... già questo ti aiuta... ma poi... quando faremo... quando faremo... la... per esempio... le derivate... le derivate... e vedremo che la derivata di seno è coseno... la derivata di x fa 1... la derivata di meno x cubo sesti... che è il pezzo che vi avrebbe toppo... fa meno x quadro mezzi... la derivata di coseno è meno 0... la derivata di 1 fa 0... la derivata di meno x quadro mezzi fa x... la derivata di coseno è... meno seno... quindi devo fare la derivata e cambiare seno... fa meno x... poi cambiare seno... e così via... quando vedremo che la derivata di e alla x... fa e alla x... vedrete... che la derivata di 1 fa 0... la derivata di x fa 1... il pezzo successivo... sarà x quadro mezzi... la derivata fa x... allora... avremo una serie di pezzi... di ordine... in piedi testi di ordine diverso... che sono incastronati in maniera tale... che la derivata di ogni pezzo... non è uguale al pezzo precedente... e quindi anche quello ci aiuterà... a memorizzare bene queste formule... ok? però... ripeto... l'obiettivo finale di tutto... saranno le formule di McLaurin... queste formule... unite a quello che studieremo... non so se giovedì o lunedì... principio di sostituzione di infinitesi... mi permetteranno... di calcolare... un sacco di limiti... moltissimi... ok? va bene... quindi... abbiamo... per l'intanto... fatto... un certo numero di limiti... andiamo a fare... adesso... come limiti fondamentali... basta... per oggi... facciamoci un po' di esercizi... su questi limiti fondamentali... per esempio... se io vado a fare questo limite qua... limite... per x... che tende a 0... di 1... più... ax... alla 1 su x... questo quanto fa? vediamo chi è capace di calcolare... vediamo chi è capace di calcolare... allora... questo è molto semplice... fa... e... elevato ad a... per quanto dico? allora... io faccio... a è una costante... e la prendiamo diversa da 0... anche se la prendo uguale a 0... va bene uguale... perché qua viene 1 elevato... 1 su x... che è proprio... il limite proprio... e alla 0... quindi... in realtà non è necessario... però... se prendo la diversa da 0... questo limite lo posso scrivere... come limite... x... che tende a 0... guardate che... nonostante l'età... sono ancora dotato di vista buona... quindi... prima o poi... prendo qualcuno che abusa... ci sta di fare il colpo di tosse... quando hai una serie di 200 colpi di tosse consecutivi... o uno ha un problema... e allora si accomoda fuori... o se no... sta disturbando la lezione... allora io poi... lo prendo... e... e lo faccio... diciamo... faccio in modo che se ne prenda... più di dirvelo... cioè... l'ho fatto capire con lo sguardo... lo devo fare... come mai adesso... non sta tossendo più nessuno? ecco... 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 è una cosa proprio... non la riesco a concepire... perché... mi state disturbando da soli... perché poi dopo... la video lezione sarà... disturbata... facciamolo solo al gusto di fare questo allora 1 più ax qua scrivo a fratto ax moltiplico e divido per a adesso ax lo chiamo t questo diventa il limite per t che tende a 0 perché ax tende a 0 a per x tende a 0 quindi io dico 1 più t alla a diviso t o se preferite alla 1 su t elevato ancora a allora voi avete che questo abbiamo visto che tende a e elevato all'a l'elevamento a potenza è una funzione continua e quindi e elevato all'a quindi per esempio se io vado a fare il limite per x che tende a più infinito di 1 più 3 su x elevato all'a x questo quanto fa? non è esattamente lo stesso di prima ma è parente stretto cioè quanto fa? che al cubo 1 su x lo chiamo in t tende a 0 dalla destra e ottiene il limite di t con una volta chiaro? se adesso vado a fare il limite per x che tende a 0 di 1 meno x mezzi alla 1 su x quanto fa? questo è proprio quello che abbiamo calcolato un'a uguale meno un mezzo e quindi quanto fa? e alla meno un mezzo cioè 1 sulla radice 10 andiamo a fare per esempio il limite per x che tende a 0 di logaritmo di 5 più x meno logaritmo di 5 fratto x si tratta di una forma indeterminata? sì perché per x che tende a 0 questo tende a logaritmo di 5 meno logaritmo di 5 fa 0 diviso 0 che moltiplica 1 più x quindi come si può fare? questo fa il limite per x che tende a 0 di qui abbiamo logaritmo di 5 qui abbiamo logaritmo di 5 che moltiplica 1 più x quindi meno logaritmo di 5 fratto x quindi questo non è altro che limite per x che tende a 0 di logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi logaritmo di 5 meno logaritmo di 5 se ne va qua mi rimane logaritmo di 1 più x qui fratto x che fa questo ci potrebbe arrivare pure da su quanto fa? non è che ci vuole un gemma eh? quando fa? un quinto questo lo chiamo il t questo è il numero 1 più t su t questo è il numero 5 al denominato che fa 1? è chiaro? è chiaro? quindi questo limite qua fa 1 quinto adesso andiamo a fare altri limiti anoteri non altri limiti anoteri non altri limiti anoteri ma altri esercizi quindi andiamo per esempio andiamo per esempio andiamo a fare limite per x che tende a più infinito logaritmo di logaritmo di andiamo un po' x più 1 fratto logaritmo e la radice quadrata e la radice quadrata ok allora questo come lo posso scrivere questo è un limite sempre complicato in realtà è semplicissimo lo posso scrivere come il limite per x che tende al più infinito qua posso scrivere logaritmo x più logaritmo di 1 più 1 di x x lo scrivo come il pallone sotto posso scrivere un mezzo allora logaritmo di questo alla un mezzo è un mezzo per logaritmo di x quadro più 1 anche qui posso scrivere logaritmo di x quadro più logaritmo di 1 più 1 di x quadro allora questo diventa il limite per x che tende al più infinito del logaritmo di x più logaritmo di 1 più 1 su x sotto minimale x tende al più infinito quindi logaritmo di squadro è 2 logaritmo di x più precisamente sarebbe 2 logaritmo del valore assoluto di x ma siccome x è positiva tendendo al più infinito possiamo assumere lo positivo qua posso scrivere logaritmo x più 1 mezzo logaritmo di 1 più 1 su ok? ora osservate che questo pezzo qui tende a 0 perché questo tende a 1 logaritmo di 1 tende a 0 questo tende a 1 logaritmo di 1 tende a 0 invece questi due pezzi qui tende a più infinito però sono uguali quindi io posso mettere in evidenza dividere per logaritmo x sia sopra che sotto a qua mi viene 1 più logaritmo di 1 più 1 su x fratto logaritmo x sotto mi viene 1 più 1 fratto 2 logaritmo di 1 più 1 su x4 fratto logaritmo x ora osservate che questo termine e questo termine tendono a 0 non sono affatto i determinati questo è 0 su più infinito 0 su più infinito questi tendono a 1 1 più 0 fa 1 1 più 0 fa 1 1 fratto 1 ora tutto questo impareremo a farlo in un batter d'occhio cioè quando siamo arrivati qua già si capisce che qui chiameremo il termine principale cioè quello più grande è logaritmo x sopra logaritmo x sotto che vuol dire limit form poi questo lo capiremo più in là e adesso l'esercizio richiede questi due passaggi ma in futuro questi due passaggi saranno notevolmente avvenuti qui ha messo un mezzo fuori e un logaritmo x quadro mi ha portato dal fatto che solo logaritmo x perché un mezzo logaritmo x quadro è due logaritmo x due per un mezzo è 2 chiaro? 6 secondi ok quindi questo limite qua fa 1 no? o vediamo un po' se ci sono 5 minuti che viene dalla pausa ce ne sono 6 allora io sto preparando il terreno per quello che giovedì vedremo sarà il principio cosiddetto di sostituzione degli infinitesimi e degli infiniti vedremo entrambi diciamo usare il motto latino ubi maior minor cessas che significa dove ci sta una cosa più importante e la cosa meno importante perde il significato si può trasportare cioè qui vedete ci sono questi due termini questi sono molto più piccoli di questi questi si possono trasportare quindi fare questo limite è come fare il limite soltanto del rapporto questo e infatti il limite è proprio questo lo capiremo meglio giovedì però c'è un punto che è delicato allora innanzitutto ho capito il principio cioè questo è un principio di carattere generale vale anche per la vita di tutti i giorni dove avete un problema di ordine più grande il problema di ordine minore sparisce se avete un debito da 500.000 euro però non è che vi state preoccupati 20 euro in più o meno o se ci avete invece da incassare una somma di 100.000 euro o che vi abbia fatto un importo di 99.995 euro ci sono mancati 5 euro probabilmente mi frega poco perché diciamo sul complesso della somma magari era un un incasso che era problematico non sapeva se a quel punto arriva l'ingasso contentissimo non mi frega niente non mi importa niente se ci vanno giù o boh ben poh stesso discorso allora supponiamo che arrivi qua il vettore allora a quel punto se il vettore viene qua ci avrà un motivo per venire qua allora io fermo la lezione e gli do la parola che non è che viene cioè un bimaio vedi che cosa devi dire perché oppure per esempio se andate a scuola arriva il preside o il dirigente scolastico magari voi lo salutate calzate in bico però c'è un caso nel quale potete trovare difficoltà perché voi per esempio a scuola siete inferiori sia al vostro professore sia al dirigente scolastico se il dirigente scolastico entra e il professore non lo considera proprio adesso voi siete in difficoltà perché se salutate il dirigente scolastico avete fatto il vostro dovere però magari il professore sarà se l'ha fatto intenzionalmente a non salutare se invece non lo salutate poi avete un problema con lui comunque il concetto è che c'è un ordine delle cose un ordine di importanza l'ordine di importanza è che si considera sempre più importante la cosa più grande ok? nei limiti il termine è più grande allora chi è il termine più grande? quando parliamo di infiniti cioè di cose che vanno a infinito sarà il termine di ordine maggiore cioè più lo eledi da una potenza grande per esempio se qua ci stava logaritmo quadro di x invece che logaritmo di x questo è un termine che fa infinito il limite faceva più infinito quando invece parliamo di infinitesimi sarà più importante cioè più grande l'infinitesimo di ordine minore per esempio se stiamo tendendo a zero x tende a zero x quadro è meno importante perché tende a zero più velocemente per esempio se x è 10 alla meno 3 x quadro è 10 alla meno 6 se x è 10 alla meno 9 x quadro è 10 alla meno 18 quindi il quadro è trascurabile rispetto a x e questo è un primo quadro poi appunto bisogna calcolare mettere gli infinitesimi e gli infiniti in un certo ordine cioè bisogna capire qual è il termine più grande e qual è il termine più piccolo vedremo che non sarà sempre facile perché per esempio questo infinitesimo questo infinito scusate per x che tende a più infinito rispetto all'infinito fondamentale questo un ordine preciso non ce l'ha è un infinito però quando faremo altri limiti vedremo che è un infinito che è un ordine minore di ogni numero minore di 1 cioè questo se lo divido per x se faccio il limite di logaritmo x su x tende a zero il limite di logaritmo x sulla radice di x tende a zero logaritmo x sulla radice cubica di x che tende a più infinito tende a zero quindi vedremo che ci saranno delle difficoltà ulteriori ma non finisce qua c'è un altro problema questo problema io uso la metafora dei film di azione vabbè diciamo americani ma insomma sono film di azione blockbuster che stanno in tutto il mondo ormai come funziona? qual è lo schema di un film di azione? allora c'è un buono e un cattivo è chiaro che chi è dotato di armi superiori vince la famosa frase quando un uomo con la pistola incontra l'uomo con il fucile l'uomo con la pistola è un uomo morto ci sta citazione da Clint Eastwood dai film di Sergio Leone ok ok però quindi potremmo potremmo dire quando un infinitesimo o un infinito di ordine inferiore incontra un infinito di ordine superiore non conta niente fino a qui ci siamo la metafora si tiene però se ci fate caso che succede nei film di azione molto spesso a volte succede che quello che ha l'arma superiore regola l'altro se ne sbarasse va via ma più spesso finisce quasi sempre che fanno ammazzare fanno appunto prima c'avevano le armi nucleari miracolosamente sopravvivono a 50 esplosioni tutte e due però non c'hanno più le armi nucleari poi c'avevano le armi convenzionali sopravvivono a granate pistole fucili e quant'altro alla fine si ritrovano sull'orlo di un dilupo a fare pugno o qualcosa del genere poi per una mossa per un minimo di abilità in più quello di buono sopravvivere è cattivo o cade nel dilupo o si ammazza in guarda così finisce ecco questa è una metafora da tenere a mente molto importante cosa succede? andiamo a cercare di capirci quanto fa questo limite qua? allora se vi ricordate che seno di x è uguale a x più o piccolo di x e andiamo a sostituire otteniamo la seguente espressione questa espressione non mi dice niente perchè? allora se separatamente facevo questi due limiti solo questi se li voglio separatamente fate separatamente seno di x su x quadro va a più o meno infinito al secondo se è dato da destra o da sinistra perchè rimane seno di x su x che tende a 1 fratto x 1 su x va a più infinito da destra e a meno infinito da sinistra e poi qua c'avete meno 1 su x che fa una cosa analfa se faccio la differenza mi appare questa espressione qua termine di ordine superiore a x fratto x quadro quindi si sono annullate i termini di ordine 1 si sono annullate le armi più importanti mi sono rimasti io piccole distasi però in questo caso io sto in difficoltà per quale motivo? so che il numeratore è di ordine superiore a 1 ma so che il numeratore è di ordine 2 io che ne so questo qua che ordine ha? perchè non esistono solo gli ordini delle se questo qua avesse ordine 1 e mezzo il limite parebbe più e più quindi se questo qua c'ha ordine 2 il limite è un numero finito di differenza 0 se questo qua c'ha ordine 3 il limite parebbe se però per esempio per caso qualcuno mi dice conosco quest'altra formula che è più precisa e vado a sostituire in questo caso il limite come diventa? x meno x se ne va qua rimane meno x cubo sesto più piccolo di x cubo fratto x4 e questo limite secondo voi quanto fa? stavolta fa? fa 0 perchè? quindi allora qui abbiamo questo che è di ordine 3 questo che è di ordine superiore a 3 quindi ci sta questo e quindi questo si può trascurare questo non conta questo di ordine 3 fratto questo di ordine 2 semplifico rimane una x quindi questo sarà un problema costante che avremo sui limiti cioè tu sai per esempio che il limite x tende a 0 sai che il denominatore è di ordine 2 cosa devi fare? dovrai sviluppare i termini del numeratore almeno fino all'ordine 2 qua se ce l'essi avuto questo limite qua se devo fare questo limite qua quanto fa? quanto può fa? meno 1 se ci metto meno 3 se ci metto più 3 fa più 3 se ci metto così non è determinato va bene? fa 0 perchè? questo è un piccolo di x quadro che sotto è x quadro se era un piccolo di x avevo problemi ma un piccolo di x quadro significa di ordine superiore a 2 quello di sotto è di ordine 2 un piccolo di x quadro è una cosa che quando lo divido per x quadro tende a 0 quindi questo limite fa 0 quindi mentalmente qua è il discorso il discorso per esempio è che x tendeva a 0 sotto per qualche motivo riuscite a capire che l'ordine è 2 o 3 che significa che al numeratore tutti i vari pezzi dovete svilupparli fino all'ordine 2 o 3 poi si vanno a vedere prima per esempio le costante si eliminano no? allora rimane una costante fratta di x quadro sotto a di ordine 2 una costante fratta di x quadro renderà più infinito o meno infinito al secondo segno della costante a i termini di ordine 0 cioè le costanti si elitono allora si passa ai termini di ordine 1 supponiamo che ci siano solo termini di ordine interno allora se ci siano solo termini di ordine interno al termine di ordine 1 si elitono? no? magari rimane 3x su x quadro allora il limite farà più infinito da destra e meno infinito da destra si elitono anche quelle di ordine 1 rimane che ne so 5x quadro su x quadro il limite farà 5 si elitono anche quelle di ordine 2 sopra rimane un piccolo x quadro su x quadro a questo punto non ci interessa se si elitono ulteriormente per quale motivo? questo diviso questo se si elitono anche quelle di ordine 3 avremo un ordine 4 avremo un ordine 5 ma comunque saranno di ordine superiore quindi dovete cominciare a entrare in questo meccanismo che poi vedremo in tanti esercizi soprattutto quelli del compito per cui prima si fanno i conti e si vedono i pari infiniti o pari infinitesimi come sono fatti poi si fanno le elisioni cioè si va a vedere se qualcosa si cancella e poi si va a confrontare tipicamente il numero di ordine 1 ma prima si cancella perché io non posso dire non posso dire che il limite per x che tende a più infinito di che so io è logaritmo di 1 più x meno x fratto x quadro non posso dire che fa più infinito per il semplice fatto che allora mettiamo 1 più x più 1 meno e alla x ok? se io faccio questo limite questo limite è un numero finito ma qua c'è 1 quando andrò a sviluppare questo mi viene anche un meno x e si evita ma qua c'è x e quando andrò a sviluppare questo mi viene anche un meno x e si evita e poi se bisogna fare il conto col termine è di ordine 2 questo limite e qua mi viene meno x quadro mezzi meno x quadro mezzi per meno x quadro mezzi questo limite fa meno 1 però non lo possiamo sapere adesso lo sapremo meglio quando impareremo a fare i conti usando quelle famose le formule di Maclaurin che vado dicendo ok? quindi il concetto è dobbiamo capire come si confrontano gli infinitesimi e gli infiniti dobbiamo capire che quando c'è una quantità più grande la quantità più piccola si può ignorare principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi ma dobbiamo anche capire che prima di fare i confronti bisogna fare prima tutte le cancellazioni che possono essere prima si fanno i conti le cancellazioni e poi di quello che rimane come si fa nel film prima esauriscono tutte le armi che avevano quando si sono annullate tutte queste armi allora cominciano a fare cazzolini chiaro? quindi questo è un po' il quadro adesso ci possiamo riposare 10 minuti qui è qui è è qui è qui è qui è qui è qui è qui